Bentornati su Radio Design, oggi abbiamo una co-conduttrice che apprenderà l'arte e il mestiere della radio e la nostra bellissima Giulia Radi, benvenuta. Grazie. Chi è Giulia Radi intanto? Una psicologa, giusto? Una psicologa. Raccontaci un po' il tuo percorso di vita. Allora, benvenuti a tutti, io sono una psicologa, chiaramente non sono solita andare in radio e questo è abbastanza evidente, sono psicologa e psicoterapeuta e qui sono per presentare un'esperienza. Un'esperienza, ma la mia co-conduttrice è rimasta in silenzio, poteva dire un ciao ma per la prossima volta un ciao. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Riso, non mi presento anche io, non sono pratica nell'ambiente radio ma adesso ci prepareremo poco a poco insieme. Abbiamo una psicologa apposta che ti seguirà nel percorso. Ci supporterà. Allora, dicevamo, benne, benne, la co-conduttrice è benne, benne, di cosa stiamo parlando oggi? Qual è la novità? Oggi entriamo nella radio con un nuovo argomento che è la psicologia. Abbiamo infatti la nostra dottoressa Giulia Radi che ci introdurrà a un argomento molto molto interessante e molto delicato che è l'emozione, la sfera dell'emotività. Ma lascerei la parola a chi ne sa più di me. Parla meglio di me, radia, bravissima. Prego. Brava, Benny. Dunque, io sono qua per presentare un'esperienza che è nata ormai nel 2014 insieme ad alcuni colleghi per poter portare la psicologia a tutti quanti, alle persone che non addetti ai lavori. Mettiamola così, che è un po' più gentile. Gentile. Quindi questa idea si concretizza in un blog, una rivista online, per la precisione, che si chiama Il Sigaro di Freud. Intanto perché questo nome? Diciamo che, come tu ben sai, tutte le imprese che vogliono avere un po' una presa sul pubblico devono avere un nome interessante. Freud fumava Il Sigaro, Il Sigaro ha tantissimi significati che richiamano anche il simbolo fallico e quant'altro. E quindi in qualche modo poteva essere interessante per i nostri lettori. Non avevo mai pensato a un sigaro come il simbolo fallico, ma adesso che me l'hai detto guarderò ogni uomo che fuma una sigaretta, spero una donna, che fuma una sigaretta e dirò attenzione. Benissimo. C'è sempre una prima volta. Tu Benedetta avevi già immaginato questa... Chiaramente, sì, sì, io tutti i giorni quando vedo gente con sigari e sigarette, ecco. Dici oddio, ma... Potrebbe essere un simbolo particolare. E quale fu il primo post, te lo ricordi? Questo sarebbe interessante. Sì, esattamente. Allora, il primo post, me lo ricordo perché è proprio da questo che è nata l'idea e era un articolo di una collega, Emanuela Gamba, sulla dislessia. Perché si tende ad utilizzare l'espressione sono dislessica, sono dislessico, quando non ci viene una parola, quando magari articoliamo male una frase e chiaramente la utilizziamo in maniera impropria e quindi l'idea è stata un pochino quella di disambiguare alcune espressioni della psicologia e capire da dove provengono. Interessante. Tu cosa ne pensi di... Io, tra l'altro, non è la prima volta che santo parlare del segro di Freud, infatti lo seguo su Facebook, sono una vostra follower e tra l'altro ho visto che siete già più di 20.000 seguaci? Ebbene sì. Ma che bomba! Questa è un'esclamazione tipica della radio. Quindi ha un seguito pazzesco, ma intanto io nel 2014 avevo 16 anni, me lo ricordo benissimo. Chiaro, beh, anch'io. Anche tu avevi 13 anni. Chiaro, 13, sì. Non ti eri neanche laureata, già parlavi di psicologia. Invece dicevi qual è il tuo focus all'interno del blog, di cosa parli? Diciamo che vado un po' ad ispirazione, però mi sono resa conto che i miei articoli vanno sempre nella direzione di un lavoro sulle emozioni e sulle relazioni, quindi questa è un po' la tematica. Questa è una passione tua di sempre o è una cosa che è arrivata con la formazione specifica della psicologia? Diciamo che è arrivata con l'esperienza personale, prima che... Con i traumi relazionali. Prima che professionale. Guardandomi intorno, guardando la mia vita e insomma. Tu sei una di quelle donne che quando sono piccine le amiche si avvicinano e fanno posso confidarti un segreto? E tu lì ascoltavi sempre e dici, oh Dio, potrebbe essere il mio lavoro. Non lo so, non so identificarmi così. Noi ci siamo conosciute in un tempo ancora... Non sospetto. Non sospetto. Benny è stata la prima... Benny sa dire meglio di me. Benny era prima che si confidava? Mi confidavo, mi confidavo. Anzi, ero fondamentalmente un libro aperto e Giulia aveva sempre le buone chiavi di lettura. Mi ricordo quando eravamo piccole che le dissi una volta al telefono, basta che sento la tua voce e già tutto comincia ad avere una forma un pochino più chiara. Quindi già dai 16 anni era una predestinazione questa della psicoterapeuta. Questa è come si chiama? Ruffiana. La sviolinata dell'amica. Esattamente, così si chiama. Il violino di Freud. Il violino di Freud. Potremmo aprire un nuovo blog. Quanti post, a quanti articoli siamo arrivati? Allora, onestamente non sono brava in matematica, però da quando abbiamo aperto a dicembre 2014, sono stati pubblicati due articoli a settimana, fino ad oggi e tuttora questo ritmo va avanti. Numeri interessanti. Quindi abbiamo detto due articoli a settimana per 12 mesi, per due articoli. Quindi due a settimana sono otto articoli, due, quattro, sei, otto, a settimana, al mese. Otto per 12, per quanti anni, quanti anni, dal 2014 sono cinque, quindi per cinque. Sto facendo il calcolo a mente. Sono 480 articoli. Insomma, una mente matematica. Ma anche ad agosto non vi fermavate? È durante il mese di agosto e nelle vacanze di Natale c'è il Meglio Dì, cioè una rubrica che ripropone gli articoli più interessanti usciti durante l'anno. Meravigata. Comunque adesso mi sto ricordando che forse io l'ho letto veramente questo blog in passato, perché mi sta venendo un flash. Quindi siete veramente famosi. Siamo famosissimi. Non è che noi in radio vi portiamo gente che, capito, non si scherza proprio. Ci sono dei curriculum appetibili. Ci sono dei curriculum appetibili. Abbiamo dei dati di analytics, perché io qui insegno web marketing, quindi mi piacciono queste cose. Traduci per il volgo? Quante visite al mese, l'anno, c'hai un po' di numeri. Mi trovi impreparato, Nicola? Sono la psicologa, non mi interacciono queste cose. Diciamo che tutto quello che è un po' tecnologico, non sono io a gestirla, ma un collega Dario Maggi Pinto che è eccellente. Che abbiamo in diretta. Lo stiamo chiamando. E quindi, no, forse lui saprebbe rispondere meglio di me. Magari lo inviteremo. La prossima puntata possiamo sicuramente sentire Google Analytics di Dario. Ma invece, non so, gli articoli più letti di questo lo sai? Eh, allora... Le cose che tirano di più. I temi caldi. Chiaramente noi ci rendiamo conto, tramite i mi piace e le condivisioni degli articoli, quanto seguito hanno gli articoli. E quelli che riguardano certamente le relazioni e le esperienze che, insomma, un po' tutti possono sperimentare. Chiaramente hanno più seguito di altri che magari riguardano una specifica area della popolazione. L'articolo di cui vai più fiera? Sulla capacità di essere soli. Questa è una cosa difficilissima. Tra l'altro, proprio su questo, ho letto questa mattina un esperimento sociale che hanno fatto in America. hanno lasciato 20 persone circa dentro ognuno una cella e senza social, senza telefoni, senza nessun tipo di contatto con il mondo esterno e una luce artificiale all'interno, hanno visto quanto resisteva ogni persona all'interno di queste celle. Mamma mia. E si è visto che già dopo due ore e mezzo, la prima persona ha cominciato a dare segni di insofferenza, di ansia, angoscia. Poi c'è chi dopo appena cinque ore ha cominciato ad avere la nausea. Diciamo delle disfunzioni fisiche proprio, ecco, dei disturbi pesanti. Tutto questo per, appunto, non saper sopportare l'idea di un periodo in solitudine. Quindi è importante. Assolutamente. Diciamo che la forma di solitudine poi, no, che serve alla relazione è quella di riuscire a non stare in una coppia, no? Quindi oltre all'aspetto di isolarsi magari dai social, eccetera, quindi non esistere nel mondo virtuale, è anche la possibilità di non dover esistere solo in coppia. E questo è un po' alla base di una relazione futura sana. Questo è molto interessante. Ci sono differenze tra uomo e donna in questo? Allora, quanto a studi scientifici, se vogliamo parlare di scientificità, c'è, diciamo, una letteratura incredibile da questo punto di vista, perché chiaramente ci sono tantissimi studiosi che si occupano di questo. dati alla mano ad oggi non ne ho, però mi riprometto di portarli per la prossima volta. Credo che posso dire che a livello di educazione le donne sono più portate a vedersi in coppia, ma semplicemente per una questione educativa che poi chiaramente viene assimilata. Perché fondamentalmente, qui torno un po' al mio ambito preferito, che è parlare un po' di quelli che sono i diritti delle donne, nella storia delle donne, la donna non è mai stata vista come un'entità, ma sempre come una controparte, la metà della mela, qualcuna che sta a casa, l'angelo del focolare e quant'altro. Quindi forse sì, è più riferito alle donne, ma c'è una pressione culturale forte. Quindi parliamo più in realtà di una questione culturale che non genetica. Intrapsichica, di sicuro no, decisamente. Adesso ci avrei tipo 690 domande, ma non è il caso. Sto cominciando a chiedere, sono le donne più empatiche? Stavo pensando, penso proprio di sì rispetto all'uomo, l'uomo è più cinico. Sempre per educazione. Ah ok, quindi è sempre per questo. Ci sono dei modelli culturali che poi influiscono anche sul singolo, per cui se da bambini ci viene detto che tu maschio puoi fare il guerriero oppure devi essere diciamo quello che sostiene la famiglia e tu invece devi essere carina, gentile, essere brava in casa perché ti devi prendere cura degli altri. È vero. Predispone un po' anche certi tipi di competenze. Dico solo quest'ultima cosa perché è bellissimo. Ho letto questo libro del mio mito vivente, Alessandro Barbero, uno storico libro su Federico II di Sveve, Federico il Grande e Barbero racconta questa cosa che nel Medioevo gli uomini erano più abituati a esternare le emozioni tranquillamente e che è col passaggio dei secoli che questa cosa è andata in disuso nel senso che adesso è molto più difficile in età adulta esprimersi come i bambini, invece nel Medioevo era normalissimo tipo il re giocava con i giocattoli abbiamo fatto un passo indietro fondamentalmente giocavano a nascondino questa cosa è interessante io ti chiedo di indagare per noi e fare un articolo su come nei secoli volentieri molto interessante questa costrizione dell'adulto a diventare necessariamente arido diciamo da quel punto di vista del gioco del gioco in generale della spara dell'immutività un po' in generale questa cosa mi ha sorpreso che nel periodo medievale gli adulti non c'erano problemi a giocare a nascondino io dicevo ma è possibile io pensavo ancora peggio invece no siamo noi che siamo peggiorati involuti esatto l'odio ai giocattoli comunque poi forse questa spontaneità di cui parlavi tu del gioco si trasforma diciamo riguarda anche proprio la sfera dell'emotività credo da non addetta ai lavori assolutamente questo credo si riversi anche nella precarietà che oggi abbiamo a livello relazionale quante volte sentiamo non mi impegno perché e poi una serie di scuse questo ecco conversazioni molto da bar molto tra amiche però succede assolutamente vero cioè sicuramente se io non predispongo il campo per poter sviluppare certe abilità non le sviluppo e quindi chiaramente anche il gioco permette di sviluppare le abilità creative tutto questo aspetto un pochino più emotivo un pochino più empatico se lo vogliamo chiamare così che viene attribuito all'aspetto femminile ma non è biologico dell'aspetto femminile ci sono donne non empatiche io c'ho l'ultima domanda secondo me oltre al fotografo probabilmente il lavoro dello psicologo è quello più fastidioso da vivere perché al fotografo si dicono sempre ah tu sei fotografo fai la foto quindi il fotografo non vive deve lavorare sempre e secondo me lo psicologo è lo stesso appena ti becca l'amica o il primo conoscente fa senti ho questo problema quindi praticamente voi non staccate mai il cervello oddio io tra lo psicologo e il fotografo a questo punto penso che il fotografo sia molto più difficile perché immaginiamoci di dover fare delle foto per Instagram per una persona è un incubo immaginiamo di avere un amico cinese però devo dire la verità che io in effetti quando vado in treno e si parla per esempio con i vicini nel vagone non dico mai che lavoro faccia tu sei burba non evitare io smetterò di dire quello che faccio nella vita perché è angosciante ti invitano ai matrimoni e dicono eh però tu devi lavorare ok grazie pensavo ti chiedessero le interviste per strada anche queste cose fanno capita va bene è stato un sogno io ti terrei qui per 16 anni tutte c'ho mille domande che mi girano dei libri che ho letto cose ma eviterò continueremo in privato tornerà cioè offline offline che è una cosa che un po' mi disturba però va benissimo tornerà anche perché avremo una novità introdurremo a breve una rubrica per gli addetti ai lavori e non che parlerà proprio di questo di psicologia ce ne vuoi parlare? assolutamente la proposta di Benedetta e il grande aiuto di Nicola ci hanno permesso di creare questa nuova idea quindi la creatività delle menti che si uniscono e poiché ci troviamo nell'istituto italiano di design abbiamo deciso di intitolare questa nuova rubrica sulle emozioni a cui potete contribuire nel senso che se avete domande dubbi o argomenti da approfondire siamo qui ad aspettarli e si chiamerà il design delle emozioni io sono già emozionato dopo che hai detto questa cosa lo siamo un po' tutti vedo che c'è fermento e poi ti faremo sapere le faremo sapere le faremo sapere email o telefonata esatto adesso non ti direi stai serena perché sennò poi faccio richiami renziani alla cosa è stato un sogno è stato un sogno I have a dream è stato un sogno ci stanno è stato un sogno parlando di Freud è una cosa molto bella sì è un commento molto bello molto psicoanalitico diciamo dopo ti fa l'analisi complimenti alla coconduttrice la sua prima giornata di lancio nell'etere grazie complimenti complimenti bene adesso andiamo a fare un aperitivo a mezzogiorno un brunch un brunch un piccolo brunch che fa molto Milano style e continuiamo a parlare di psicologia ciao ciao a tutti